Ciao, io sono Chiara, un operatrice del Tortellante. Ciao, io sono Marco, ragazza del Tortellante. Il Tortellante è un'associazione di promozione sociale che coinvolge 25 ragazzi dell'espetto autistico e sostiene le loro famiglie. Il Tortellante nasce nel 2016 dal progetto di Afton, nel 2018 si è sposto nella nuova sede in Centro Modelo che permette a chiunque di accedere alla realtà dell'autismo adulto. L'obiettivo del Tortellante è quello di creare un ponte tra i servizi offerti per la prima infanzia e l'età adulta. I ragazzi infatti una volta raggiunta la maggior età e finita la scuola si ritrovano in una sorta di vuoto sociale e il nostro scopo è quello proprio di andare a riempire questo vuoto creando per loro una possibilità di imparare un lavoro e di avere un'utilità nella società. Il Tortellante è un laboratorio terapeutico riabilitativo che promuove il prodotto di pasta fresca e migliora l'abilità dei ragazzi e con l'aiuto delle restore viene prodotto un prodotto tipico miliardo che è il tortellino miliardo che viene servito solitamente in crema ogni giorno. La presenza delle nonne, delle restore modenesi consente di non perdere la tradizione e anche di fare una cosa molto bella che è quella di unire la terza età con la disabilità. Abbiamo provato e stiamo lavorando anche su altre tipologie di pasta fresca e apriremo anche presto un punto vendita per permettere a tutti di avere più scelta e anche di venirci a trovare. Anche il Tortellante partecipa al progetto Cucina in Casa di Casa Archivi. Ciao a tutti, venite un'altra domanda e arrivederci a tutti.